Allora, sergente, vorrei che mi continuasse a parlare dei suoi impulsi violenti. Ah, spenga quella sigaretta, qui hai vietato fumare. Se non la spengo, che cosa rischio, dottore, a mi fa? Per restare. Sa, io non credo che comprenda la gravità della sua situazione. Bella penna. Cosa? Ho detto bella penna. Mi dice molto di lei. Oh, ma davvero? Per esempio? È evidente che ha bisogno di avere un simbolo fallico tra le dita. Sergente Brent, negli ultimi 12 mesi è stato accusato di aver messo delle cimici nell'ufficio del commissario, di aver picchiato a sangue un uomo in una sala da biliardo e la settimana scorsa di aver aggredito tre presunti ladruncoli minorenni con una mazza da hurling. Vuole che vada avanti? Il mio rapporto sarà determinante per stabilire la sua idoneità al servizio. No, sergente Brent. Si sieda. Vede, dottore. Vede. Il fatto è che io so fare solo questo cazzo di lavoro. Se venissi sospeso la dovrei uccidere. Vede.